Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda l'11 marzo 2024, Brando ha ceduto alle tensioni e ha espresso un forte sfogo nei confronti di Beatrice. Il tronista, ancora indeciso tra Raffaella e Beatrice, ha dichiarato di essere infastidito dall'atteggiamento di quest'ultima, particolarmente dopo le sue dichiarazioni sulla ricerca di un ragazzo dal carattere forte come il suo. Brando, visibilmente provato dagli attacchi di Beatrice, ha chiesto la parola a Maria De Filippi per esprimere la sua frustrazione. In un acceso scambio di opinioni, Brando ha consigliato a Beatrice di fare un esame di coscienza, suggerendo che la sua cattiveria stava influenzando negativamente il percorso di ricerca dell'amore. Beatrice ha risposto, accettando il consiglio ma ribadendo che alcuni atteggiamenti di Brando la infastidiscono. La situazione è peggiorata quando Maria De Filippi ha rivelato che Raffaella era uscita piangendo a causa di qualcosa che Brando le aveva detto durante il ballo. In risposta, Brando ha annunciato la sua decisione di andare da Raffaella, lasciando lo studio senza rientrare. La tensione e la confusione hanno raggiunto un picco, mettendo in evidenza la complessità delle dinamiche sentimentali all'interno del programma.